Riferimento a Charlie, bravo, 4, 1200 metri, armi portatili. Fai missioni in corso adesso? Su un grado riportato, minaccia. Viene in corso, getata. Ok, dai controlli. Uno segretario per il pick up zone, pick up the... Scheno 01 Blade roger, 5 miles in a switch tower, 127.15, come. 1535-31, cleared for takeoff, wind 060 MAGIC, ELMO, FORMACIONE ELMO, DECOLLATA E IN PROCINTO DI ENTRARE IN ZONA PER IL PICKUP RICEVUTO, RICEVUTO, FORMACIONE ELMO, AUTENTICATE, BRAVO, ROMEO, BRAVO, ROMEO ituere. SCREEN , EICOLI QUÀ IN VISTA PIPO, A HISTORTO! kettlebe in vista Come latte Decision height Ermo 1, Ermo 2, confermo inbound? Confermo Ok, mi posiziono per una scorta vicina Eddy Stars iciary Head も, Ermo, Ermo 2, confermo inbound? Think! Ermo! 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 Denigo sue ime! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no